ne approfitto dello studio di registrazione di un mio amico per fare questo video insomma con tante belle chitarre e una bella console anche sullo sfondo ma purtroppo non è mia niente questo è il video del mese dove parlo un po di tutto anzi generalmente è sempre una chiacchiera negativa su tutti gli insulti che ho ricevuto questo mese non lo farò anche perché la mia vita è alquanto migliorata dopo aver tolto i primi ascolti perché ricevo molto buoni insulti e non ricevo mai che razza di recensione insomma tutta quella situazione che vi avevo spiegato quindi per adesso va bene così però c'è stato un mio video dei muse anzi forse più di uno che è girato credo suppongo attraverso una community dei muse e quindi lì mi hanno mi hanno bersagliato un po c'è un commento uno solo almeno al mese ve lo devo leggere se no che bello c'è questo non so quanti anni abbia o è un ragazzino o è una persona anziana perché mi dà del lei quindi era un video sui muse ma sì scritto ma sì ne saprà di più lei di musica che i muse poteva farle lei allora invece sparla boiate si renda più questa cosa è bella si renda più utile andando a fare manovalanza e si renda presentabile radendosi la barba che sembra un trasandato e di mediocre presenza ragazzi solo perché non mi è piaciuto il disco dei muse sono un poco di buono un trasandato perché tengo la barba sono di mediocre presenza questo è un trend che va molto su youtube e spero di incollarlo da questa parte cioè fare notare al pubblico che non è iscritto al tuo canale e guardando le statistiche è effettivamente così perché vediamo questo video adesso non ricordo poi lo incollerò dopo che più del 70 per cento di quelli che guardano i miei video non sono iscritti al canale quindi iscrivetevi al canale infine vi avevo promesso vi avevo detto già da tempo che bisognava aspettare un po settembre per qualche nuovo uscita perché questi ultimi mesi a causa di quello che sappiamo e che non voglio ripetere sono stati molto avari di nuovo uscita ma vi avevo detto che a settembre la situazione sarebbe migliorata infatti è così me li sono segnati perché sono tanti sono usciti il nuovo di Petrucci del buono di Petrucci che ha fatto molto discutere gli Enminor gruppo di Phil Anselmo Merlin Manson un altro che mi ha procurato tanti tanti di quegli insulti anche se nel nuovo video dopo che ho fatto la premessa che avrei cancellato gli insulti non ho ricevuto insulti quindi questa è forse la strada il nuovo live The Flying Colors che tra l'altro ho visto dal vivo in quel di Londra a fine anno scorso se ricordo bene il bel nuovo album di Neil Morris il nuovo album strumentale quasi tutto strumentale di Derek Sherinian insomma il mercato si sta cominciando a muovere sperando che si muova e altri gruppi importanti ci sono un sacco di gruppi che dovrebbero avere dischi pronti ACDC Foo Fighters Megadeth stiamo aspettando siamo tutti lì le vecchie glorie hanno i dischi pronti e forse aspettano il momento giusto per farlo uscire questo è quanto da questo bello studio vi saluto vi ringrazio ancora una volta per seguire il canale mettete un like teniamoci in contatto ciao a tutti alla prossima